la birra non penso che sarà faccia però ho chiesto il cioccolato portare a casa ragazzo però è molto pensare di essere un cricetto come andate a casa aspetta prenderlo aspetta prenderlo dai ravioli tagliatelle qualcosa mi ha detto levati dal cazzo si è uscito c'è la sua sorella del pomeriggio alla ragazza mi conviene che liberiamo ragazzi io vi filmo e voi liberate ragazzi liberate io basta liberare la birra la birra non penso che se la faccia però ho chiesto il cioccolato mi vedi il cioccolato io ho mai il cioccolato mi vedi il cioccolato mi vedi l'acqua mi vedi l'acqua mi vedi l'acqua i miei dimini ragazzo mi dammi braccio però è bozzo è bozzo pensa di essere un cricetto è andata a casa 50 tir ahahahahaha www.mesmerism.info